Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che andremo a trattare all'interno di questa puntata. Abbiamo costruito due atti approvati all'unanimità, uno in particolare che impegna la Giunta ma anche la conferenza Stato-Regioni ad utilizzare tutte le risorse possibili sia europee, quindi quelle avanzate dagli scorsi bandi europei, sia il Recovery Fund e quindi tutte le misure possibili anche nel caso di sgravi fiscali e quindi con un impegno sia per le regioni a cascata su Comuni, ovviamente previa autorizzazione del Governo e compensazione del Governo. Quindi abbiamo cercato di impostare un ragionamento generale su tutte le possibili fonti di finanziamento dividendo in due la parte dei ristori che spetta principalmente al Governo e la parte della ripartenza che spetta prevalentemente alla Regione. Nel secondo atto abbiamo invece cercato di individuare, facendo un grande lavoro con tutte le emozioni che erano arrivate nello scorso Consiglio, le categorie che hanno sofferto di più. L'idea era proprio quella di riuscire a fare un lavoro che andasse a dare una mano alle aziende, le imprese, le piccolissime imprese che non avevano avuto nessun tipo di ristoro e quindi la Regione con i finanziamenti, 19 milioni e mezzo del Governo che abbiamo avuto a dicembre, avendo avuto un avanzo di circa 8 milioni, ha dato un indirizzo forte alla Giunta, condiviso con l'assessore, che è quello di partire a dare questi aiuti a coloro che siano rimasti fuori, principalmente i ristoratori e tutta la filiera del turismo. È emerso un atto condiviso al quale abbiamo lavorato insieme a tante forze politiche, anche noi abbiamo portato il nostro contributo, è importante dare un ulteriore sostegno a molte attività produttive che in questo momento sono chiuse, che vivono una fase complessa di difficoltà. Va dato sostegno ovviamente ai ristoratori, non solo, anche al commercio, il commercio di vicinato, così come dentro i centri commerciali sta soffrendo in maniera molto forte, perché le persone ovviamente sono in fase di lockdown, possono circolare poco, non ci sono scambi fra comuni, è un momento difficile, quindi anche il commercio al dettaglio ha bisogno di risposte nuove, che finora non sono state date, perché comunque in alcuni casi le attività sono aperte, e poi ci sono tutta una serie di attività collegate soprattutto al turismo, collegate ai trasporti, agli NCC, alle fasi dei tassisti, a tante attività, anche quelle alberghiere e molte partite IVA. Nel complesso sono tante le attività che necessitano di un'attenzione particolare, abbiamo chiesto in primis ovviamente di dare risposta a quelle realtà che sono in zona rossa, nello stesso tempo a tutte queste altre attività. Noi come Forza Italia siamo partiti da un punto fermo però su quel decreto ristori, che erano stati stanziati dei milioni di euro per l'oreca, cioè per la ristoruzione, per la somministrazione, per la ristorazione, per i bar, per tutta una filiera che riguardava appunto l'oreca. Quei soldi lì devono rimanere in quel comparto. Poi abbiamo chiesto che il governo stanzi ulteriori risorse per aiutare alcuni comparti che sono estremamente colpiti, che non sono stati tenuti in considerazione dalla regione, che hanno avuto pochissimo dallo Stato e quindi abbiamo bisogno di mettere un'invenzione di danaro fresco nelle casse delle nostre aziende. Penso ai tassisti, penso agli ambulanti, penso ai mercati fieristi, penso agli alberghi, penso a tutto ciò che ruota intorno al turismo. E mi sento di dire, l'ho detto anche in aula, che la Toscana non è tutta uguale. Noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità anche nella gestione delle risorse e soprattutto come spendiamo le risorse a chi le diamo. Faccio un esempio, le città d'arte sono le più colpite. Firenze in Toscana è sicuramente la città più martoriata da questa crisi economica. Un ristorante di Firenze non può avere gli stessi ristori di un ristorante che invece magari nel periodo estivo scorso ha stralavorato perché il turismo si è fermato in Italia. Come per esempio un albergatore di Firenze non può avere gli stessi ristori di un albergatore per esempio della Versilia che ha preso e che durante il periodo estivo ha lavorato. Ecco, georeferenziarie, anche i ristori e quindi gli aiuti economici alle categorie economiche potrebbe essere un elemento ulteriore per aiutare le nostre imprese. È una qualità, diciamo, delle nostre città. Noi siamo abituati a pensare alle città cinte da mura ma non è una cosa normale in tutto il mondo. È davvero una qualità che dà identità al nostro patrimonio culturale. e credo che si prosegua in una tradizione perché è una legge di consiglio regionale che diventa invece una legge di giunta incardinata nel bilancio triennale dell'ente. Quindi si finanzieranno gli interventi dei comuni che sono volti a consolidare, valorizzare, consentire la fruizione di elementi di scinte murari o di fortificazione delle città. È un intervento importante, è un sistema di interventi in ambito di valorizzazione e cura del patrimonio culturale, dei beni culturali degli enti locali che ha visto anche altre leggi approvate proprio nella seduta di oggi che vuol aiutare gli enti locali a prendersi cura del loro patrimonio. In questo modo anche garantire che quegli elementi di identità che sono poi più nostri e che qualificano il profilo delle nostre città vengano preservati e trasmessi ai cittadini futuri della Toscana. Allora, un grande passo avanti sulle città murate, lo dico non soltanto da cittadino lucchese ma anche montecarlese. Finalmente un testo che va a predisporre anche tutta una serie di finanziamenti sicuramente importanti ma che chiederemo di poter ampliare per le prossime annualità per fare anche qui dare risposta alle molte amministrazioni e alle molte comunità che trovano i loro borghi più delle volte circondati da cinta murarie sulla cui complessità di intervento abbiamo molto discusso e dove oggi troviamo un punto di partenza, la possibilità di intervenire con fondi adeguati che crederemo che siano incrementati appunto nei prossimi anni per quelle che sono tutte le attività di recupero e di valorizzazione. Un punto importante per Luca che ha già cominciato quest'opera meritoria con i fondi messi a disposizione dalle fondazioni locali ma al tempo stesso anche per cittadine di capoluogo più piccoli, per comuni più piccoli, Montecarone è sicuramente un esempio attraverso cui possono partire nuovi progetti di sostanzialmente di manutenzione ma anche di promozione e valorizzazione del territorio. Un altro passaggio molto importante è una legge che è stata approvata, tra l'altro la proposta di legge approvata ad unanimità. Sì, è stata una proposta di legge elaborata dalla Quinta Commissione che si occupa di cultura e istruzione, è un'ottima proposta insieme a quella che si concentrava sugli edifici di pregio, e quindi niente, l'abbiamo votata all'unanimità, in consiglio, perché vogliamo tutti in questo momento le stesse cose, in questo momento di crisi cerchiamo di avere un senso di responsabilità, diciamo, generale. La tutela delle nostre città storiche è un patrimonio importantissimo per la regione toscana e in questa fattispecie la tutela delle mura storiche è un elemento che ci distingue sopra ogni altra caratteristica. Si conferma, perché viene dalla scorsa le consigliature, questo impegno per la valorizzazione del patrimonio delle città murate. Ci sono già città in Toscana che hanno potuto beneficiare di questi contributi e è particolarmente importante l'approvazione all'unanimità perché è un segnale proprio di interesse per la questione. Certo, occorre mappare il nostro patrimonio, occorre considerare effettivamente quale sia lo sforzo che occorrebbe fare per riportare il più possibile in condizioni adeguate questo straordinario e bene che appunto sono le nostre mura di città, però è anche un bel segnale continuare in questa direzione. Lo abbiamo fatto negli scorsi anni, continuiamo anche adesso. Sì, la proposta che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale intende dare l'opportunità ai comuni che ne faranno richiesta di presentare un progetto per realizzare dei posteggi che tengano conto di una serie di variabili e di criteri che sono l'intermodalità con il servizio pubblico, il fatto che nella città o paese ci siano pochi posteggi, quindi non si è rispettato il parametro previsto dalla legge, ma soprattutto è quello di alleggerire da una parte i centri storici, dall'altra creare anche dei posteggi di quelli che si chiamano di testata, per far sì che le auto girino meno nelle nostre città e invece si favorisca il posteggio dell'auto e poi la percorrenza a piedi. Questo perché ci sono delle zone particolarmente critiche. Il Presidente Gianni, che ha fortemente voluto questa legge nel suo tour di questi cinque anni, nel visitare i comuni, ha raccolto e registrato da parte di molti sindaci questa criticità e quindi ha deciso di investire un milione e mezzo per tre anni e di creare le opportunità per le amministrazioni che vorranno fare richiesta. Quindi si realizzeranno posteggi grazie anche all'aiuto della Regione Toscana. Sì, questa PDL noi l'abbiamo votata a favore perché crediamo che cercare di sostenere i comuni anche nelle opere che devono portare sul territorio per garantire una maggior vivibilità di quelle zone sia importante. Abbiamo apportato un emendamento che è stato approvato dalla maggioranza che si riferiva a tutte quelle aree turistiche che erano escluse da questa legge ma che noi riteniamo che in alcuni periodi dell'anno soprattutto abbiano bisogno di maggiori parcheggi. E per noi rimane centrale il tema dell'aiuto ai comuni perché il sindaco, le amministrazioni comunali sono il primo front verso la popolazione ma sono in forte difficoltà per i tagli che sappiamo hanno subito negli anni da parte del Governo ma anche perché col Covid effettivamente si sono spesi molto indipendentemente dal colore politico. Quindi noi abbiamo votato a favore perché tutto quello che serve a sostenere le amministrazioni secondo noi è positivo e quindi troverà il nostro favore soprattutto se viene fatto un lavoro condiviso come in questo caso. Il Consiglio regionale ha approvato l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRE che è l'ultimo segmento del più importante atto di programmazione della Regione Toscana. Il documento di economia e finanza regionale è stato aggiornato nell'ultima seduta del mese di dicembre scorso in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria e adesso il percorso di programmazione per il 2021 si completa con questa integrazione votata dal Consiglio che altro non fa che aggiornare i 24 progetti nei quali si articola il documento di economia e finanza della Regione Toscana sulla scia del piano regionale di sviluppo. Si tratta per quanto riguarda il 2021 di una programmazione che investe all'incirca 1 miliardo e 600 milioni di euro di cui la più gran parte è destinata al settore delle infrastrutture, della viabilità circa il 48% di queste risorse e l'allocazione di queste risorse è prioritaria in alcuni settori strategici come quello dell'economia circolare o ancora quello del successo formativo e scolastico o ancora quello dedicato al progetto Giovani Sì e alla tutela del diritto e della dignità del lavoro. Si tratta chiaramente di un atto di programmazione conclusivo di UNITER anche se collegato all'annualità 2021 che viene fatto in attesa dell'adozione del ben più importante e fondamentale atto di programmazione che arriverà nei prossimi mesi in Consiglio regionale che è il piano regionale di sviluppo che darà la misura dell'impegno della Regione Toscana nel corso della prossima legislatura. L'aggiornamento al DEF in realtà lascia molto perplessi si lascia molto perplessi perché cerca di toccare tutti i temi ma lo fa in maniera o superficiale o senza quel cambio di passo che ci aspettavamo di sentire in una situazione economica come quella che sta vivendo il nostro Paese. Faccio degli esempi. Si affronta il tema dell'agenda digitale. Io odio pensare che nel 2021 ci sia qualcuno che nasce e vive e parte rispetto ai suoi coetanei svantaggiato perché ha la sfortuna di nascere in un comune piuttosto che in un altro in un comune dove non esiste una copertura digitale e quindi ne paga un gap che si porterà avanti per tutta la vita. Per colmare il digital divide vengono investiti 300 mila euro in un anno. È una somma ridicola. Si parla di turismo e si investono 6 milioni per il comparto turistico e non si scrive una riga su un cambio di mentalità. Il Covid, la pandemia che speriamo sia ormai prossima alla fine ci lascia in eredità un messaggio chiaro. Il turismo pensato come è stato pensato fino al 2021 è un progetto fallimentare. Nessuno avrebbe mai pensato, mai immaginato di vedere Firenze senza i turisti. di vedere piazza del Duomo vuota. Eravamo abituati a vivere il turismo come la pesca dalle reti piene. Tiravamo su delle reti lasciate in mare da nostri avi e le reti erano sempre piene. Il Covid ci ha insegnato che all'improvviso queste reti possono diventare vuote. La Regione Toscana va a investire soldi importanti e i verbi che leggiamo sono tutti mantenere, proseguire, continuare. No, serviva un cambio di passo che non è arrivato. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. grazie per la cortesia e attenzione. Cronache e commenti torna la prossima settimana.